E... azione! La temperatura di Sherwood Festival! Lo stato social... Dov'è la vodka? E niente, se per favore ci sposti la macchina che noi cortesemente dovremmo andare a Sherwood Ci sono gli amari! Ci sono anche gli amari, dovremmo, sai... Festival! Sono gli amari! Se mi dai la chiave la sposto io! Niente! Non vuole spostarla! Stiamo fermi! Ciao!